Personalità pericolose, Vigio Navarro, catalogati i comportamenti. Quando ero di stanza a Porto Rico, avevo un capo che apostrofava in maniera violenta i suoi sottoposti. Urlava e strillava contro di me e praticamente tutti gli altri. Dopo avermi dato qualche sferzata in un paio di occasioni, imparai la lezione. Così ogni volta che veniva nel mio ufficio o mi convocava nel suo, mi assicuravo di avere con me il mio diario personale. Non appena iniziavo a urlare, io attaccavo a scrivere. Ben presto smise, perché sapeva che stavo prendendo nota di ciò che aveva detto e del modo in cui lo aveva detto, appresi che a notare le parole e le azioni di alcuni individui spesso può cambiarne il comportamento o prevenire ulteriori molestie. Alcuni soggetti, però, non sono solo degli urlatori, sono più irascibili o violenti. In quei casi ho la stessa raccomandazione. Scrivete tutto ciò che fanno con data e ora, soprattutto se si tratta di eventi ricorrenti. State facendo un favore a voi stessi e più tardi potrebbe salvarvi, che la situazione si verifichi a caso o a lavoro. Qualcosa di molto semplice, come alcuni dettagli dell'evento in un'email indirizzata a voi stessi, costituisce una testimonianza che può esservi di aiuto in futuro. Se qualcuno si scaglia a parole contro di voi, vi sbatte una porta in faccia, vi schiaffeggia, vi colpisce, vi umilia, vi insegue o inizia a molestarvi per telefono, prendetene nota, da qualche parte, ora, giorno, cosa è successo. Ritorno sempre all'esempio di Nicole Brown Simpson. Se solo avesse tenuto un diario privato di quante volte O.J. l'aveva molestata, chiamata, aveva fatto irruzione nel suo appartamento, l'aveva schiaffeggiata, gettata a terra, picchiata e via di seguito. E se Nicole fosse andata alla polizia o dai procuratori di Stato con un diario pieno di annotazioni e avesse detto, per favore, fate qualcosa a riguardo, mi piace pensare che per lei le cose sarebbero andate diversamente. Non date mai per scontato che i fascicoli della polizia o delle forze dell'ordine saranno sufficienti. Non è così. La responsabilità di creare il caso è anche nostra. Ho parlato con molte donne che nelle loro procedure di divorzio se la sono cavata perché si sono presentate con un diario pieno di informazioni sugli abusi e le ruberie dei loro mariti. Ricordatevi che un diario scritto sconfiggerà sempre la memoria di qualcuno in tribunale o nel corso di un procedimento formale. L'ultima cosa che un avvocato o della controparte vuole vedere è un coniuge, un lavoratore o uomo d'affari che ha scrupolosamente annotato tutti i dettagli. Il caso è chiuso.